La sensazione è che avete perso la partita nel momento in cui sembrava che potreste voi far male al D'Avezzano. Sì, credo sia un'esamina giustissima. Dopo un primo tempo in cui abbiamo avuto anche i nostri problemi nel contenere alcuni giocatori che sono sicuramente di altissimo livello e siamo passati di svantaggio, poi ci siamo ripresi, abbiamo pareggiato e credo che abbiamo finito in perfetto. Nel secondo tempo abbiamo approcciato con continuità il nostro gioco, siamo stati spesso noi a fare la partita e a cercare di andare a far gol e nel momento in cui stavamo spingendo, pensando che prima o poi potevamo anche portare a casa la vittoria o quantomeno non stavamo subendo grossi pericoli perché sembrava che l'Avezzano si fosse un pochettino abbassato, lì abbiamo preso un gol forse evitabile, il nostro giocatore è in anticipo sull'avversario, calcia, il suo rimpallo va sotto l'incrocio, poi subito dopo abbiamo preso il terzo gol con un gesto tecnico importante da parte del centro avanti avversario che è insomma un gol che quando subisci applaudi e perdiamo in maniera assolutamente meritata con un punteggio pesante che non rispecchia assolutamente secondo me quello che sono state le dinamiche di gioco e quello che si è visto in campo. In questo finale di stagione che Vigor si aspetta? Mi aspetto di vedere, mi auguro assolutamente di vedere una Vigor che possa avere una salute un po' migliore se non altro per quanto riguarda l'infermeria, anche oggi per fare un cambio devi inventarti tre spostamenti, siamo davvero in grande difficoltà ma questo da tantissime settimane, diremmo quasi da tutta la stagione. Mi auguro quindi questo e mi aspetto di vedere una Vigor come quella di oggi, ovvio, mi auguro di non rivedere questo risultato però credo che, come dicevo prima al tuo collega, queste sono partite, sono situazioni in cui la Vigor come cultura calcistica si deve far trovare presente, deve crescere e deve farle queste partite, deve venire in questi campi senza paura perché sarebbe stato molto peggio perdere e mostrare una faccia arrendevole, una faccia impaurita, una faccia di chi teme solo l'avversario e cerca di limitare l'avversario. Invece siamo venuti qua per fare la nostra partita senza la benché minima presunzione, perché conosciamo perfettamente il valore dei nostri avversari, ma con la voglia di essere noi, di giocare, di essere protagonisti, di divertirci giocando, credo che sia questo il percorso che debba fare la Vigor, pensando anche a una Vigor futura.